Un'attesa lunga, 24 anni per gli appassionati di ciclismo padovano. Il Giro d'Italia torna nella città del Santo, Prato della Valle, e pronto ad ospitare la volata per l'arrivo di una tappa del Giro d'Italia. Manca solo l'ufficialità, ma sembra che ormai sia fatta. La data potrebbe essere quella del 23 maggio, con partenza da Trento e passaggio per i Cogli Uganei. I dettagli saranno svelati il prossimo 13 ottobre, quando verrà presentato a Trento il percorso ufficiale per la Gara Rosa del 2024. A Padova il Giro d'Italia manca da più di 20 anni. L'ultima volta che la città del Santo ospitò l'arrivo della Gara Rosa era il 2000, tappa vinta dal Lombardo Ivan 40. Il primo a sperare e ad essere ottimista è l'assessore allo sport Diego Bonavina, che da anni sta lavorando per riportare il Giro d'Italia in città. Facile ipotizzare che anche questa volta possa essere una tappa per velocisti, con l'arrivo in piano nella storica piazza padovana, pronta a tingersi di rosa.